Mi sento tra me the goal Slampe! 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 La visione di ricevere, holding e paradiere il colore continuano anche oggi in their armed forces. È il privilégio di cadet di Passing Out Course di carriere il presidenza colore. In keeping con questa tradizione, il cadet di carriere il presidenza colore per il presidenza colore per il presidenza colore sono scott e cadet Captain Pratham Singh, flanked by cadet Sgt. Major Aman Patel and cadet Sgt. Major Chinmay Thakur. Chandra! Chandra! Chiare un fr hai blu! Chiare un friezo! Chiare un friezo! Chiare un friezo! a 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